Tutto via! Chi è mio amore? Chi è mio amore? Ciao! 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 Cosa c'è? Cosa c'è? Chico si sale di qua! Vieni! Vieni qua! Ecco, bravo! Fai vedere come sali? Dai! Dai! Forza! Sali! 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 No! Cosa c'è? Cosa c'è? Aspetta che ti aiuto io! Sul divano! Olè! Chico! Aia! Aia! Prenda un naso, eh! Dove andiamo? Dove andiamo? Aia!